Maria Lucia Revisore Revisore 1,27 milioni, è questo il numero di dicessi direttamente attribuibili ai batteri resistenti nel 2019. Secondo lo studio più completo sul carico della resistenza agli antimicrobici, è morta una persona ogni 25 secondi a causa di infezioni batteriche che non possono essere trattate. Nessun antibiotico, nessun vaccino, niente, ogni 25 secondi. La situazione è così critica che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato la resistenza agli antimicrobici come una delle principali minacce alla salute pubblica. Gli ha messo in atto un piano strategico globale in 5 punti per aumentare la consapevolezza, rafforzare la ricerca, prevenire infezioni, ottimizzare l'uso di antibiotici e sviluppare nuovi farmaci e strumenti diagnostici. È una questione molto complessa. È tanto che dai media il nostro rapporto con i batteri è un racconto in metafora da campo di battaglia. Siamo in una guerra contro i superbatteri, dicono spesso. Mi spiace darvi una brutta notizia, ma se questa è davvero una guerra, la guerra è persa in partenza. Per capire perché, dobbiamo metterci nei panni dei batteri. Torniamo a più o meno 4 miliardi di anni fa, quando la Terra era appena nata. Era un luogo pericoloso, era caldo, esplosivo, inospitale. Poi si raffreddò e cominciarono ad emergere le prime forme di vita. La vita lì era invisibile e aveva la forma di organismi unicellulari che oggi chiamiamo batteri IRK. Nel corso dei 3 miliardi di anni, in cui questi erano gli unici abitanti del nostro pianeta, hanno orchestrato le complesse reazioni chimiche che hanno creato l'ossigeno che respiriamo. Hanno ciclizzato elementi come carbonio e azoto. Hanno creato tutte le condizioni per le forme di vita più complesse che sono seguiti. Infatti, molti li considerano i veri architetti della vita. Oggi sappiamo che queste piccole creature si presentano in tutte le forme. Abbiamo batteri sferici, a forme di bastoncini. Ci sono anche organismi quadrati, triangolari. E vivono in ogni angolo del nostro pianeta, dall'Antarctide ai vulcani e persino nelle scuole radioattive. Come potete immaginare, nella Terra dei batteri la vita non era proprio una favola. Questi organismi microscopici di rado esistono isolati. Nel corso di miliardi di anni, hanno navigato in un mondo in costante interazione, scontrandosi con altri microrganismi, tutti impegnati in competizioni per il cibo, lo spazio. In questa eterna lotta per la sopravvivenza, hanno sviluppato sistemi chimici intricati per comunicare, difendersi e attaccare. Vedete, i batteri hanno un solo obiettivo nella vita, diventare due. E preferiscono farlo il più veloce possibile. Loro prendono il nutrimento dall'ambiente e attraverso una serie di processi interconnessi all'interno della cellula, lo trasformano in nuovi batteri. Tuttavia, questo percorso di crescita non è privo di ostacoli. Quando alcuni batteri prosperano, producono sostanze chimiche che interferiscono con i processi cellulari dei rivali, bloccando la crescita delle cellule coinvolti. Alcune di queste sostanze, come le streptomicine, le tetracicline, sono gli antibiotici che acquistiamo oggi in farmacia. Molti sono prodotti derivati dai batteri. Anche quando i batteri si dividono, di solito riescono a creare repliche esatte. Ma a volte la natura è capricciosa e gli errori nel processo di copiature genetiche danno origine a mutazioni che generano un aprogeno con differenze minime rispetto alla cellula originale. Non è che tutte le mutazioni siano vantaggiosi, ma nel vasto ambito delle popolazioni batteriche una di queste mutazioni potrebbe essere la chiave per la sopravvivenza. Per esempio, se una mutazione rende il batterio insensibile a quelle sostanze, esso può sfuggire all'attacco chimico di un altro batterio. Allora, vediamo un po' come crescono i batteri. Sono lì, mangiano, compare una mutazione buona, poi un'altra mutazione cattiva, e così via. Cosa succede dunque quando noi usiamo gli antibiotici in modo continuativo? Creiamo numerose opportunità per i batteri mutanti che prosperano in quelle condizioni. Col tempo eliminiamo i batteri suscettibili, lasciando spazio ai risorsi per i ceppi resistenti che prendono il sopravvento. A questo punto gli antibiotici diventano inutili. È un esempio crudeli del processo di selezione naturale. Oggi abbiamo due strategie principali per affrontare la resistenza agli antibiotici. Lo sviluppo di nuovi farmaci e l'applicazione di misure restrittive all'uso di quelli già disponibili. Entrambi hanno dei problemi. Attualmente sono pochi gli antibiotici in fase di sviluppo e la limitazione al loro utilizzo, soprattutto nei paesi ad alto reddito, non è riuscita a contenere l'escalation della resistenza. In questo contesto comprendete la responsabilità individuale nell'uso degli antibiotici. Ogni volta che lo facciamo, avviamo un dialogo con l'evoluzione e aumentiamo la probabilità che diventi inefficace per tutti gli altri utilizzi seguenti. Emerge anche un dilemma economico, perché come si fa a investire in un farmaco destinato a essere usato il meno possibile? La resistenza agli antibiotici è un risultato inevitabile della selezione naturale. Le attuali strategie possono solo ritardare, non prevenire l'ascesa dei batteri resistenti. Ecco i loro limiti. E noi? Bene, dobbiamo aggiornare i nostri termini e condizioni con i batteri. Una guerra contro i super batteri è in realtà una guerra contro i processi evolutivi. Non è saggio dichiarare guerra contro una forza della natura. Ma tiriamoci su. Ho anche una buona notizia. La resistenza agli antibiotici è uno dei rari processi evolutivi che possono essere esplorati empiricamente in tempi brevi. Vedete questi puntini bianchi? Sono colonie batteriche resistenti a diverse concentrazioni di un antibiotico. Di solito sono già visibili dopo più o meno un giorno di esperimento. Proprio per questo possiamo condurre esperimenti su larga scala che ci permettono di caratterizzare gli elementi chiave alla base della resistenza. Vediamo perché. La idea è semplice. Quando un fenomeno può essere sottoposto a esperimenti può essere misurato. Si può essere misurato, può essere quantificato. Se possiamo quantificare possiamo provare a sviluppare i modelli matematici. Quando arriviamo a un buon modello matematico possiamo testare ipotesi, ottenere spiegazioni per i nostri dati e prevedere scenari di comportamenti sconosciuti. Un buon modello matematico è uno strumento quasi magico per trovare soluzioni non ancora immaginabili a problemi complessi. Nel contesto della resistenza agli antibiotici una domanda fondamentale è come crescono i batteri in condizioni diverse di nutrienti e concentrazione antibiotica? Questa è una sfida enorme per due motivi. Primo, perché abbiamo bisogno di un modello matematico per descrivere il comportamento di un batterio a qualsiasi concentrazione di un antibiotico. Non importa se non abbiamo ancora misurato. Secondo, perché questo modello deve essere in grado di descrivere il comportamento di qualsiasi batterio mutante a qualsiasi concentrazione di quell'antibiotico. Non importa se i batteri mutanti sono ancora sconosciuti. La vita diventa difficile perché abbiamo bisogno di scrivere equazioni per le cose che non sappiamo che esiste. Vediamo cosa si può fare. Una cosa che facciamo molto in laboratorio è monitorare il comportamento di batteri a diverse condizioni. Ecco qui un esempio di come il tasso di crescita diminuisce quando aumentiamo la quantità di antibiotico nell'ambiente. Un modello matematico per descrivere questo deve contenere informazioni su cosa fa l'antibiotico ai processi cellulari di quel batterio. Possiamo farlo con un sistema di equazioni come questo che ti indica come il batterio prende il nutrimento dall'ambiente trasporta l'antibiotico dentro e fuori della cellula. Come la presenza dell'antibiotico all'interno della cellula interferisce con i processi cellulari del suo bersaglio che in questo caso è questa cosa grigia si chiama il ribosoma e è una struttura fondamentale per produrre nuovi batteri. Bene. Abbiamo delle... Così possiamo sapere cosa succede quando cambiamo la concentrazione di antibiotico nell'ambiente. Abbiamo delle formule per tutte queste cose ma sono grandi del tipo che non entrano nella slide. Comunque dopo una ginastica matematica possiamo arrivare a una soluzione che è anche gigantesca ma che descrive una curva così. Per validare il modello dobbiamo poi testarlo a una concentrazione di antibiotico che non abbiamo misurato prima come qui. Bene. E i mutanti? Per generalizzare questo tipo di modello ai batteri mutanti nel 2018 insieme a un team di ricercatori di Germania e Svesa abbiamo condotto molti esperimenti per cercare i batteri mutanti che sopravvivono a diverse concentrazioni di un antibiotico. Abbiamo isolato 32 mutanti e sequenziato il loro DNA per scoprire le loro modifiche genetiche. Ciò che abbiamo osservato è che i batteri dispongono di vari meccanismi per sfuggire all'attacco dei farmaci. Alcuni di loro funzionano meglio ad alta sfida antibiotica altri a bassa. Alcuni batteri semplicemente chiudono la loro membrana che è la porta di ingresso per gli antibiotici con meno antibiotico all'interno meno problemi per la cellula che può ancora crescere. Abbiamo studiato meticulosamente come crescono questi mutanti in alcune condizioni diverse con più o meno farmaco. Ecco il bello poiché i vari processi della cellula interagiscono tra di loro un cambiamento in una parte della cellula si propaga attraverso tutto il sistema. Per esempio quando i batteri chiudi la sua membrana prendi meno gli antibiotici e sopravvivi alla loro esposizione ma prendi anche meno cibo e cresci più lentamente rispetto alla cellula originale nella situazione senza antibiotico. Abbiamo utilizzato questo tipo di regolarità nelle differenze di crescita tra la cellula originale e la cellula mutante per creare un modello matematico simile a quell'altro ma che ci permette di calcolare il tasso di crescita dei batteri mutanti anche di quelli che non abbiamo osservato. ecco qui un esempio del modello insieme con i dati di un batterio mutante che abbiamo misurato. Con questo tipo di modello possiamo fare tante domande sul processo di evoluzione della resistenza degli antibiotici. Come si comporterebbe un batterio che chiude la sua membrana due volte o dieci volte più velocemente rispetto al primo mutante? Possiamo anche scrivere equazioni per un batterio che produce un antidoto per l'antibiotico o che semplicemente lo ignora cambiando la struttura del bersale dell'antibiotico. E quando arriviamo a uno zoo di batteri immaginari possiamo chiedere quale sia il miglior meccanismo per sopravvivenza con questa o quella quantità specifica di farmaco o se facciamo diversamente e così via. È una strada che si apre per sondare i comportamenti di scenario sconosciuti delle cose che non abbiamo ancora osservato. Attraverso questa lente possiamo elaborare strategie intelligenti per ottimizzare gli interventi che tengono a bada i batteri resistenti. Ho anche fatto una rima. Bene, siamo solo all'inizio di questo tipo di ricerca. Nel mio laboratorio presso l'Human Technopole abbiamo ora una postazione sperimentale per generare i dati sul comportamento delle batteri nelle comunità. Questo ci permette di creare modelli matematici più realistici sugli interventi degli antibiotici e su come le comunità batteriche evolvono in risposta all'esposizione antibiotica. Abbiamo ancora molta strada da fare ma insieme con gli avanzamenti nel campo della diagnostica rapida possiamo aspettarci numerosi progressi nel campo delle terapie antibiotiche nei prossimi anni. Finché questa realtà non diventa parte della nostra vita quotidiana l'unico modo per mantenere l'efficacia degli antibiotici è un uso responsabile. L'approccio tradizionale alla scoperta e allo sviluppo di nuove farmaci è ormai limitato per questo abbiamo bisogno di un nuovo modo di pensare. Con un mix di biologia e teoria abbiamo un'alternativa. Questo ti offre una nuova prospettiva in cui possiamo prevedere possiamo usare i modelli matematici per prevedere l'emergenza della resistenza. possiamo valutare i scenari futuri anticipare quali mutazioni sono probabili per creare i superbatteri e pianificare di conseguenza. In questo modo cambiamo quella che ho già visto come una guerra di attrito a un gioco di creatività. Inoltre la biologia teorica ti fornisce il manuale di istruzioni per manipolare i batteri a nostro favore aprendo la strada per nuovi metodi di interventi come l'uso dei batteri per combattere altri batteri. Ricordiamoci gli antibiotici sono una chiave per interagire con un processo evolutivo quindi è cruciale utilizzarli con criterio. Le decisioni che prendiamo oggi saranno fondamentali per definire ciò che sarà possibile per le prossime generazioni sia per noi che per i batteri. Come dice il famoso evoluzionista Stephen Jay Gould viviamo nell'era dei batteri così era l'inizio così è ora e sempre sarà fino alla fine del mondo. Quindi oggi vi invito a cambiare la vostra prospettiva per iniziare un nuovo capitolo nella nostra storia di coesistenza con i batteri. Un capitolo in cui non siamo né vincitori né vinci ma partners in un delicato equilibrio. grazie a tutti. Grazie.